Paola Caruso è una ragazza straordinaria perché ha una forza, una gioia di vivere e una comicità dadaista unica, quindi sì a un certo punto scopriremo che è incinta ma regalerà molto. Non è diciamo una ragazza abituata alle avventure in Africa. Rachele e Linda, le due manken, viaggia insieme a Linda Morselli la fidanzata di Alonso ma anche una bravissima modella, ispirante attrice e fisicamente sono molto in forma loro quindi non mi preoccupa quell'aspetto lì però chiaramente è molto difficile quest'anno l'edizione è molto difficile nella storia del programma e quest'anno ci saranno coalizioni, ci saranno faide sono estremamente competitivi. Pechino non è un programma buonista, ricordiamocelo. Moltiplicato, quest'anno sono molto più feroci rispetto all'anno scorso, sì no, veramente lo sono. Tutti e tre paesi spettacolari, io amo in particolare il Marocco. Attraverseremo tutto il Marocco, tutta la Tanzania, anche nei luoghi dove non vanno i turisti a fare i safari, quindi veramente vedremo la realtà di questi paesi e poi Sudafrica, in Sudafrica faremo solo la costa sud-sud proprio per fare tutto il continente dall'estremo nord all'estremo sud.